Benvenuti a Eroe Contro Eroe, stile contro precisione nella nostra prima resa dei conti. Avere un gran mantello non aiuta granché, quando un problema ha bisogno di una mira precisa. Hank vince questa battaglia, la prossima, super piatto contro super resistenza. Guarda un po', Max e Thunder me ne sgonfio, ma Henry Danger resiste ai suoi nemici. Oggi è un pareggio, ma la sfida continua su Danger and Thunder, ora su Pluto TV. È arrivato il momento di puntare in alto ed esplorare nuovi posti con i cuccioli più coraggiosi in circolazione. La Paw Patrol torna con mitiche avventure. Non perdere tutta l'azione ad Adventure Bay. Ci sarà anche la Cat Pack. Paw Patrol. Tutti i giorni su Nick Junior. Tieniti forte. Ragazzi, c'è una novità. Si parte per il fantamondo. Svegliati, Timitar. Tutti i tuoi desideri saranno realizzati. Che piacere rivedervi. Grazie ad un fanta incredibile. Fanta invincibile. Fanta insuperabile. Fanta canale. Sì, ragazzi, è fantastico. Insieme agli spassosi. Fanta territori. Mitico! E questo è tanto per cominciare. Due fantagenitori, ora su Pluto TV. Nel sottosuolo di questa giungla urbana si nasconde una specie molto rara. La tartaruga ninja. Si nutre con una dieta fatta prevalentemente di formaggio e pomodoro. Possiamo mangiarci una pizza? Si muove in piccoli branchi. Benvenuta in fornìa! Nonostante il carapace è estremamente agile. Questo è solo l'iriscaldamento. E se ne incontri una, è meglio non farla arrabbiare. Dobbiamo suonare. Teenage Mutant Ninja Tattles. Ora su Pluto TV. Si torna a scuola. È ora di sedersi al banco e affrontare l'amata matematica. Quel prof tanto simpatico. Sedere il coppiero del tercizio. E quei mitici compagni di scuola. Ma niente panico. L'unica campanella che sentirai suonare ora è quella della ricreazione. Questa è proprio una buona idea. Sono permessi solo divertimento e per gli amici. Andiamo. Super Intervallo. Ora su Pluto TV. Stavamo pensando che ti serve una strategia con le ragazze. Prova con questi. Bene. Super Top. Ora su Pluto TV. Da qualche giorno Super è sparito dalla tua TV? Niente paura. Siamo sempre qui. Basta risintonizzare i canali. È davvero facilissimo. Se hai bisogno d'aiuto, vai su supertv.it. Siamo sempre qui.